Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi questo dispositivo, è una dashcam di Yaukei, molto economica perché costa all'incirca tra i 30 e i 40 euro, la trovate tranquillamente su Amazon. È un dispositivo che ha un angolo di registrazione di 180 gradi, quindi molto ampio, è molto piccola, le dimensioni sono davvero ridottissime. E a mio avviso questo è uno dei suoi punti di forza perché evita di creare ingombro e quindi di essere fastidiosa e di notare la sua presenza durante la guida. È facilmente installabile perché ha una comoda ventosa con una manopola che ne permette l'ancoraggio ed è alquanto stabile, per adesso non si è staccato. In dotazione è anche un alimentatore con accendi sigari, non è compresa la memoria microSD ma potrete installare tranquillamente vari tipi di microSD fino a un taglio massimo di 128 giga. La registrazione è in varie risoluzioni 1080p 720p VGA, invece la registrazione in loop ha vari tipi di registrazione in loop che vanno dai 3 minuti, 5 minuti fino a un massimo di 10 minuti. C'è possibilità anche di registrare il video con l'audio, c'è il sensore di gravità che rileva vibrazioni e movimento, quindi per quando la macchina in movimento parte in automatico la registrazione. L'installazione è semplicissima perché una volta accesa vi chiederà di scegliere la lingua, ci sono vari tipi di lingue, selezionato l'italiano vi chiederà in seguito di inserire data e ora. Dopodiché è già pronta l'uso, dovrete solo scegliere il tipo di registrazione in loop e la risoluzione. Nel mio caso è 1180p e l'ho posizionata a 5 minuti in loop. C'è la possibilità di inserire un'antenna GPS ma io non la ritengo di fondamentale importanza. Quello che è interessante è il fatto di avere comunque un amico a bordo che in caso di sinistri o situazioni particolari possa rappresentare un valido alleato e una fonte diciamo di prova per difendersi da eventuali problematiche. Le dimensioni sono veramente piccolissime, una volta svitato, dimensioni davvero piccolissime, non la si nota quasi. Ovviamente il display essendo così piccolo non vi permette un gran che di visionare le immagini però ovviamente una volta rimossa l'Sd potrete incodervele al meglio le immagini. Spero possa esservi utile questo video nella scelta appunto di una dashcam che per coloro che non hanno pretese vogliono spendere comunque poco e avere il minimo essenziale perché parliamoci chiaro, dashcam ce ne sono tantissime, parecchie hanno risoluzioni migliori, hanno possibilità di retrocamera e tante altre funzionalità ma hanno interesse all'essenziale e soprattutto spendere poco perché se si può avere un prodotto funzionale ad un prezzo giusto perché non sfruttare questa opportunità. Spero che il video sia utile, vi lascio il link in descrizione per poter visionare le varie specifiche e valutare l'eventuale acquisto. Di dashcam ne ho provate parecchie su questa fascia di prezzo, non sempre mi hanno stupito in positivo perché alcune ovviamente presentavano dei piccoli difetti tipo magari alcune nella registrazione in loop danneggiavano il file rendendo appunto non più visualizzabili. In questo caso devo dire che si comporta abbastanza bene, è molto semplice, intuitiva e alla portata di tutti. Per oggi ho terminato, mi auguro che il consiglio possa esservi di aiuto. Grazie, alla prossima!